e ho provato a girare dove dicevi te e io arrivo più a stare con il davanti sotto quel sasso la no? però arrivo contro di qua eh adesso si lascia lì un po' dai e diciamo con quale zone a te qua ti scaldi per bene no a te complimenti a lui che ci ha bastonato tutti è venuto prima volta che l'ho visto e le garette qui che facevamo non è del vostro